furia caffè per il piacere di un buon caffè solo e sempre a casa tua benvenuti nello spazio idros oggi vi vogliamo proporre un ottimo caffè si avete capito bene un ottimo caffè proprio come quello del bar furia caffè con furia caffè vogliamo rivoluzionare il modo di fare il caffè niente più barattoli che fanno svanire l'intensità dell'aroma niente più filtri da riempire sporcando la cucina niente più fondi di caffè nel lavello niente più disagi insomma per bere il caffè ma solo praticità e molto più gusto il gusto del caffè del bar come osservate bene ecco una compressa già dosata pronta da usare le inseriamo nel portafiltro ed ecco un ottimo caffè subito pronto senza sporcare infatti grazie alla compressa già dosata con la massima igiene e praticità otteniamo un vero espresso come quello del vostro bar preferito fatto il caffè si toglie la compressa si butta e di seguito senza dover stare a pulire il filtro si prepara un altro caffè telefonate subito i numeri che vedete in sovraimpressione un nostro incaricato vi farà degustare gratuitamente a casa vostra furia caffè ma non basta compreso nel prezzo della prima fornitura riceverete questa elegante pratica macchina per l'espresso furia caffè lo potete avere espresso decaffeinato ed orzo lo potete acquistare solo qui telefonando i numeri in sovraimpressione ovviamente dopo averlo degustato ed apprezzato a casa vostra le quantità da acquistare le decidete voi in base alle vostre esigenze con la prima fornitura però riceverete compreso nel prezzo la macchina del caffè ma vediamo come funziona si inserisce la spina in una normalissima presa si riempie d'acqua la vaschetta accendete l'interruttore inserite la compressa di caffè nel porta filtro ed ecco l'espresso è pronto visto con quanta semplicità incredibile no è normalissimo per furia caffè perché il nostro elettrodomestico è veramente facilissimo da usare avete uno studio volete far bella figura con i vostri clienti avete un grande ufficio e volete fare felici le vostre impiegate anche per voi furia caffè è la soluzione e compreso nel prezzo della prima fornitura di caffè la macchina per l'espresso di idros furia caffè è un caffè della migliore torrefazione perfettamente macinato contenuto in questa compressa già dosata che rivoluzionerà il modo di fare il caffè a casa la giusta quantità e la giusta pressatura permettono di fare a casa l'espresso come al bar ma vogliamo vedere ancora in funzione la macchina per il caffè inseriamo la compressa nel portafiltro mettiamo la tazza sotto il beccuccio ed ecco il vero espresso guardate che colore che crema aroma e gusto non possiamo farvelo provare attraverso il teleschermo ma questo strepitoso caffè lo potete degustare direttamente a casa vostra basta una telefonata rivoluzioniamo il modo di fare il caffè così tutte voi amiche care sarete in grado grazie alla nostra compressa già dosata di fare un ottimo espresso senza alterare la tradizione del gusto e dell'aroma ottenendo sempre un espresso come al bar volete il cappuccino nulla di più facile prepariamo il latte col vaporizzatore ed ecco la schiuma buono da gustare e bello da vedere telefonate subito prenotate una degustazione completamente gratuita di furia caffè e con la prima fornitura riceverete la macchina per il caffè nata per soddisfare i palati più esigenti in fatto di gusto ma anche per assolvere le tanto importanti funzioni di praticità velocità e pulizia d'uso le compresse di furia caffè le potete avere per fare l'espresso il decaffeinato il caffè d'orzo ordinandole nelle quantità a voi utili riforniamo le piccole grandi famiglie gli studi gli uffici e tutte le persone che amano il buon caffè ogni complessa è perfettamente dosata e pressata quindi il problema di quanto caffè mettere nel portafiltro è finito basterà inserirla ed il caffè uscirà perfetto basta i fondi di caffè basta la polvere sparsa sul piano della cucina basta gli sprechi scegliete furia caffè telefonate subito i numeri che vedete in sovrimpressione un nostro incaricato vi farà degustare gratuitamente a casa vostra furia caffè ma non basta compreso nel prezzo della prima fornitura riceverete questa elegante e pratica macchina per l'espresso siamo alla fine di questo nostro spazio ma non ci lasciamo qui ci salutiamo semplicemente perché tra qualche giorno saremo a casa di molti di voi per bere insieme furia caffè telefonate con fiducia perché idros non vi ha mai deluso e non vi deluderà mai perché furia caffè più buono non c'è